Benvenuti a questo evento veramente bellissimo, vorrei subito prima di dire qualsiasi altra cosa ringraziare il nostro architetto Paola Ruggeri qui presente e chiedere un applauso per questo lavoro che ha durato quattro anni, infatti poi con la progettazione anche di più, infatti è presente qui anche Mauro Linari, va ringraziato anche Mauro Linari che alcuni anni fa è andato in pensione, continua a collaborare come collaboratore post-quiescenziale, però questo progetto ha lasciato sin dall'inizio a Paola Ruggeri perché era chiaro che veniva realizzato soltanto dopo la data del suo pensionamento e quindi un grande ringraziamento a Mauro Linari, vorrei ringraziare anche Eugenio Gianni che sta arrivando, se non fosse dietro uno delle Camelie, probabilmente non ancora, comunque è quasi ubiquito, non ancora del tutto quindi fra pochi minuti sarà arrivato anche lui, questo progetto era possibile grazie a un cofinanziamento delle Gallerie degli Uffizi e della Regione Toscana e dico subito noi abbiamo messo un po' di più perché le Gallerie degli Uffizi hanno pagato per tutto il restauro strutturale, a parte di una parte di quello che vedete, cosa assolutamente necessario perché le mura erano poi di sesto e quindi rischiavano, questo lavoro che per fortuna almeno per i prossimi centinaia di anni non si vede più nessuna traccia di questo lavoro dentro le quinte era non meno importante di quello di cui vedete adesso la superficie bellissima, il recupero di questo spazio e degli affreschi, dei giochi d'acqua, tre fontane soprattutto anche quello botanico con queste bellissime Camelie in piena fioritura e quindi questo per dirlo metaforicamente noi abbiamo pagato più per la torta mentre la Regione Toscana più per le ciliegie e quindi queste ciliegie includono anche questo recupero. Qui non si vedeva niente ancora alcuni anni fa, anzi non si entrava nemmeno perché era pieno di roba, non si poteva nemmeno avvicinarsi, il funzionario che ha il suo ufficio lì dietro poteva forse andare per due o tre metri per fumarsi una sigaretta ma questo qui dal 1859 è sempre rimasto chiuso, nessuno è entrato, adesso un bellissimo recupero. Ci sono altre persone da ringraziare, Annalisa Orsi, l'architetto Annalisa Orsi che è anche presente che ha dato una grande mano lavorando con il coordinamento di Paola Ruggeri ma anche l'architetto Laura Baldini Giusti che è anche presente che era responsabile ai tempi della soprintendenza di questi luoghi e ha raccontato gli interventi per la maggior parte insomma urgenza che si è fatto prima e quindi è veramente un grande lavoro corale come deve essere. Ora credo che infatti nella mia lista per non dimenticare nessuno l'ho messo nell'altra tasca della giacca ecco e qui quindi ci sono altre persone da aggiungere. Vorrei ringraziare il soprintendente Andrea Pessina e la sua successora Antonella Ranaldi che hanno seguito questo lavoro soprattutto Andrea Pessina perché la progettazione è partita più di cinque anni fa e poi l'architetto Valerio Tesi che è attualmente il soprintendente di Pisa, Volterra e Livorno e che all'epoca seguiva proprio come funzionario incaricato questa parte del palazzo. Poi l'attuale funzionaria responsabile Valentina Aversa che avevo visto prima mi pare, da qualche parte c'è, l'Università degli Studi di Firenze, il Dicea, Lab, Geolab e DSA per la caratterizzazione geomorfologica che hanno collaborato ai studi previsionari. Poi appunto all'ingegnere e architetto Massimo Mazzoleni che ha rivestito il ruolo di progettista e direttore operativa strutturale, l'architetto Massimo Bonecchi che ha rivestito il ruolo di CSP e CSE cercando di coniugare la sicurezza degli operai con la sicurezza delle piante, però le camellie in realtà non sono carnivore quindi non c'era un grande conflitto di interesse. La dottoressa Bianca Maria Landi che è la nostra curatrice del patrimonio botanico e quindi abbiamo non solo l'architetto delle camellie ma abbiamo anche la botanica delle camellie. Poi Massimo Pettini, giardinieri che ha controllato con cura la salute delle plante durante l'esecuzione dei lavori. La restauratrice Sabrina Biondi che si è occupata della restaura delle superfici decorate. L'architetto Angela Pintore che ha seguito con estrema dedizione di aspetti inerente la rendicontazione finanziaria, anche quella è importante. il geometro Antonio Fanetti che si è dedicato con non meno cura alla verifica contabile del cantiere. Un ringraziamento speciale anche all'impresa e esecutrice il consorzio Ganosis e la ditta Meta Impianti che non ha niente a che vedere con Meta di Facebook e di Instagram. Il capo cantiere Alessandro Lumaia che ha coordinato la squadra di muratori e restauratrici oltre che l'agronomo di fiducia della ditta e poi la squadra dei restauratrici. Angela Di Iorio, Luisanna Poli e Alexandra Mesiazeva che hanno riportato alla luce i dipinti murali della grotticina dietro di me e della grotticina Lorenesi che erano davvero, come c'è scritto qui, in pessimo stato di conservazione. E poi è un speciale ringraziamento che va rivolto ai nostri fratelli e sorelli le camelie che sono oltre 50 specie di camelie che hanno sorportato questi lavori umani per oltre 450 giorni non continuativi perché appunto erano un lavoro di oltre 4 anni. E quindi anche se non è ancora arrivato Eugenio Gianni, comunque do la parola per illustrare gli interventi nei loro particolari all'architetto Paola Ruggeri. Vi ringrazio tutti quanti. Quello che dovrei aggiungere è che questo restauro non è solo autoriferenziale ma da oggi in poi regolarmente, come succede con le grotte di Boboli, regolarmente è aperto al pubblico, non in maniera illimitata, e questo non sarebbe concesso per motivi di sicurezza ma sempre per piccoli gruppi e ci sono delle visite guidate da parte dei nostri assistenti che vengono offerte in cui vengono anche spiegati questi spazi e questi lo stiamo annunciando in questo momento anche sul sito, quando si svolgono, a che ora, eccetera. E quindi lo diamo proprio al pubblico, al nostro pubblico, per la fruizione e una grande giornata per Firenze, direi. E vi ringrazio a tutti voi di essere venuti. L'architetto Ruggeri. Io non sono brava come il direttore nel parlare, quindi mi consentite, leggerò degli appunti che ho preso per raccontarvi sia il giardino e sia i lavori che sono stati svolti. Come diceva il direttore, il giardino delle cammelle versava in pessime condizioni strutturali, determinati principalmente dal malfinzionamento del sistema di denaggio e di scuolo delle acque ed era quindi suscettibile a frane e smottamenti del terreno. Lo stato di conservazione era tale che per molti anni non è stato possibile aprirlo al pubblico. Dal 2021, grazie al finanziamento appunto delle gallerie ed uffizi congiunto ai fondi del progetto tematico di rete il rinascimento in Toscana, Villa e Giardini e Midicei che utilizza le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale è stato intrapeso a questo complesso intervento di restauro integrale ovvero architettonico, strutturale, impiantistico e vegetale. Oggi, finalmente, questo restauro ultimato, questo meraviglio esambiente viene restituito al godimento pubblico. Brevi accenni alla storia del giardino. Innanzitutto, oggi noi questo giardino lo chiamiamo il giardino delle camelle ma nei documenti e nelle cartografie non ha assunto sempre questo nome. Lo troviamo descritto come il giardinetto del serenissimo principe Mattias che abitava appunto nell'appartamento che si trovava appunto accanto al giardino stesso. In epoca lorenese viene menzionato come giardinetto di Sard trovandosi appunto nell'area del palazzo che Pietro Lopoldo aveva riservato ai suoi appartamenti. Soltanto dopo il 1790, con il rialzamento del livello del piazzale della Meridiana il giardino assume il nome di giardino delle camelle così come le chiamiamo ancora oggi. Il primo documento che attesta la presenza del giardino risale al 1661 quando in occasione dei preparativi delle nozze del Gran Duca Cosimo III con Marguerite Louise Dolea, il giardino viene attraversato in una passerella linea per trasportare un'enorme statua di atlante nell'anfiteatro. Poi a seguire lo ritroviamo citato in un inventario del 1663 quando il cardinal Giovanni Carlo, fratello del Gran Duca Ferdinando II oltre che di Mattias de' Medici, coltivava bulbose di ogni genere o cipolle da fuori tra cui tulipani, giacinti e anemoni. Lo ritroviamo di nuovo citato nel 1688 in occasione questa volta di un altro importante matrimonio il matrimonio tra il principe Ferdinando e Violante di Baviera in cui si narra del giardino perché appunto furono risistemati gli appartamenti destinati alla sposa che erano attivi al giardino di Mattias sempre questo ad opera degli architetti di corte Giacinto e Biagio Marmi molti cartografie raffigurano questo giardino abbiamo ritrovato nel gabinetto di segne stampe degli uffizi di schizzi progettuali di Giacinto e Maria Marmi che ci fanno vedere proprio l'idea progettuale con cui nasce la grotta passante che prima avete attraversato per arrivare alla grotticina lorenese come anche le importantissime tavole ritrovate nell'archivio della soprintendenza che per noi è veramente un archivio preziosissimo dove abbiamo ritrovato le tavole di Pasquale Puccianti 1796-1802 dove abbiamo la descrizione anche di quello che erano i funzionamenti di Giori d'Acco del giardino per quanto invece riguarda quello che è un accenno alla conformazione del giardino come avete potuto vedere il giardino si compone di due parti una parte pubblica che è quella che va dal cancello d'ingresso fino alla grotta passante che dialoga direttamente con il giardino di Boboli e una parte privata che dalla grotta passante giunge fino alla grotticina lorenese quello che caratterizza entrambi le parti del giardino sono appunto un vialetto lastricato costeggiato da questo doppio filare di aiuole di terracotta ma il giardino era anche un giardino arregato dobbiamo pensarlo oltre che pieno di piante, di fontane anche di panchine, di basi per appoggio, di basi in terracotto che ridavano il giardino un'altra importante descrizione tratta dalle fonti di archivio sono quei gabrei del 1775 dove raccontano che al posto di queste sedre lorenese che oggi vediamo con questa connotazione con questa conformazione, con questi dipinti presumibilmente c'era una grotta di forma non absidale come questa ma rettangolare che probabilmente avevano cominciato a costruire e presentava incostrazioni marini niobi e pietre che la caratterizzavano probabilmente nel tempo ci fu una rivisazione di questa grotta però durante i lavori in cui potete immaginare che dietro queste sedie c'è un cavedio che cinge diciamo le sedie lorenese abbiamo effettivamente ritrovato le tracce di questi incrostamenti e questo ci dimostra effettivamente ci conferma quello che avevamo letto nelle cartografie storiche oltre che nei documenti di archivi un accenno vi invito a guardare con attenzione la grotta passante dove siete appunto chi avete attraversato per l'appunto si chiama grotta passante perché è veramente una struttura meravigliosa è un artificio degli architetti ma doveva simulare una caverna doveva far pensare che queste pietre si incastrassero tra di loro e si rappresnessero quasi con un'apparente cosacità secondo un po' quello che era la moda del tempo stupire chi visitava questo giardino e anche chi viveva questo giardino attraverso queste architetture che erano pensate come delle quintesceniche arricchite da importanti giochi d'acqua che dal pavimento potremmo immaginare c'erano degli insappilli d'acqua che bagnavano i piedi di coloro che attraversavano questa grotta ovviamente non l'abbiamo potuto ripristinare perché avremmo messo in pericolo i difinti murali che erano stati ampiamente restaurati dalle bravissime restauratrici però abbiamo cercato di suscitare e di accennare la presenza di questi giochi d'acqua quando arriva il buio e quindi il giardino comincia ad andare in prenombra si accende un'illuminazione che illumina sia la grotticina delle camele sia la grotta passante che consente di vederle entrambi dall'alto e dalle forature che vedete nella grotta passante posta al centro dell'astricato ci sono dei fori e da lì entravano questi zampilli d'acqua e quindi si accendono delle luci che stanno in qualche modo a suggerire la presenza di questa architettura e di questo effetto scenografico che gli architetti avevano voluto realizzare a questo punto arriviamo agli interventi sicuramente un importante intervento fu fatto nella seconda metà del Settecento e in qualche modo la lettura di questo intervento ci fa pensare che ci fossero dei problemi molto datati in questo giardino proprio perché siamo venuti a leggere che nel 1766 c'era un grave pericolo che può sovrastare il SAR allo quando si supporta nel suddetto luogo e i bastioni murari sono infatti stati consolidati mediante degli incatenamenti in cui abbiamo cercato di ancorare le murature alla Banco di Pietraforte perché il malfunzionamento del sistema di drenaggio dell'acqua determinava una specie di sovrappressione del terreno sulle murature delle murature che tendevano diciamo a ribattare verso il palazzo quindi potete immaginare quando il direttore ha detto la regione ha finanziato il restauro ma le gallerie di Fuzzisi hanno finanziato il consolidamento e che è stato necessario far precedere il restauro da consolidamento altrimenti non saremmo riusciti a restituire la sicurezza di questo sodattino effettivamente non godeva già da diversi secoli e abbiamo vari segnali e varie situazioni che ci dimostravano queste cose sicuramente nel 1819 come abbiamo detto sono stati realizzati questi bellissimi affreschi gli ultimi interventi della sovrintendenza sicuramente risalgono agli anni 70 dove abbiamo ritrovato dei documenti in cui sicuramente la sovrintendenza è intervenuto diciamo che con questo intervento noi pensiamo di non solo aver restituito a Boboli questa importante parte questa importante collezione ma soprattutto di poter assicurare ai nostri posteri la sicurezza che ci consente di conservare questo bellissimo ambiente grazie a tutti grazie a tutti per il prossimo lavoro grazie Paolo Ruggeri e adesso è il momento dell'altro finanziatore di questo restauro ma molto di più perché è anche il più universale conoscitore della storia della Toscana che ho l'onore di chiamare al podio il presidente Eugenio Gianni un brevissimo saluto poi questo apprezzamento di Eiche per me mi dà motivazione per tutta la settimana sono davvero contento di essere all'inaugurazione di un intervento che come regione toscana abbiamo cofinanziato sostenuto ma che naturalmente nasce da quella competenza conoscenza amore per gli uffizi di cui Eiche è ormai per tutti noi protagonista e sono molto felice anche nell'ascoltare le parole della dottoressa Ruggeri di quello che è stato il significato che questo spazio ha offerto nella vita straordinaria di Boboli non dimentichiamo mai che Boboli non è in funzione di Palazzo Pitti ma Palazzo Pitti nasce in funzione di Boboli quando Eleonora di Toledo moglie di Cosimo Primo dei Medici si innamora di questo luogo lei personalmente compra quello spazio che era allora un prato se voi andate a vedere nella sala del sindaco la sala di Clemente VII in Palazzo Vecchio a volo d'uccello dalla Torre del Gallo la descrizione della città di Firenze vedete che dietro un palazzotto medievale qual era allora Palazzo Pitti c'è come un prato e Eleonora di Toledo che vuole spostare la residenza privata dei Medici in quello che individua essere il palazzo giusto il palazzo medievale dei Pitti in realtà per stimolare il marito a fare l'intervento compra questo prato che poi oggi è appunto il giardino di Boboli in carica l'architetto che allora andava per la maggiore il tribolo e tutto parte dal giardino di Boboli Palazzo Pitti viene a quel punto acquistato da Cosimo I perché anche allora nella famiglia chi conta è la donna e quindi a seconda e poi da lì il motore di tutta la trasformazione urbanistica del centro di Firenze siamo ancora alla fine degli anni 40 del 500 nel 1560 sarà realizzato con l'architetto Vasari il palazzo delle 13 magistrature ovvero gli uffizi uffici e poi nel 1565 con quello che è il matrimonio di Giovanna d'Austria con il primo genito della coppia regale ovvero il matrimonio con Francesco Primo dei Medici viene realizzato il corridoio che prenderà il nome da chi lo realizza in sei mesi il corridoio Vasariano ma tutto questo l'acquisto di Palazzo Pitti la realizzazione degli uffizi la realizzazione del corridoio la trasformazione quindi nella funzione di reggia privata della famiglia dinastica che saranno prima i Medici e poi Norena nasce dall'amore di Eleonora di Toledo verso quel prato che trasformerà nel giardino per eccellenza appunto il giardino di Boboli e quindi la ricostruzione a poco a poco degli spazi del giardino di Boboli una funzione fondamentale che ci porta qui a personaggi che poi vivranno nella fase successiva del periodo della dinastia quindi i fratelli di Ferdinando II un grande e lungo periodo quello di Ferdinando governerà per 49 anni Firenze e naturalmente tutti i fratelli avevano un loro ruolo il cardinale Leopoldo che era il cardinale di famiglia voi sapete che i Medici facevano sempre questo investimento uno va a fare il comandante a Firenze in Toscana l'altro va a cardinale se poi succede come per Leone X o per Clemente VII diventa Papa tanto di meglio per la famiglia in questo caso però il cardinale Leopoldo Papa non diventa ma avrà un ruolo fondamentale nell'organizzare il corridoio vasariano invece Giovan Carlo sarà colui che organizzerà ad esempio la Pergola il teatro era un grande amante del teatro e Mattias colui a cui si deve questa particolarità e originalità è l'uomo che lascia il segno della storia certo a Firenze ma soprattutto a Siena perché è colui che inventerà l'idea che la corsa di cavalli che era lineare si può correre con tre giri intorno alla piazza e quindi il palio moderno lo dobbiamo all'intuizione di Mattias che per i medici era il governatore di Siena e quindi questo personaggio così eccentrico che appunto rivoluziona la vita della manifestazione più famosa di Siena vediamolo nel suo privato a Firenze ecco che ci propone questo giardino così bello e originale e Mattias sarà il medici che proprio che per l'amore della città del palio non avrà tutto il suo corpo sepolto alle cappelle medicie perché le viscere rimarranno nella chiesa senese proprio per omaggio di chi voleva dare il segno che ha un ruolo fondamentale nella vita di quella città devo dire che quindi a me la figura di Mattias mi ha sempre incuriosito stamani vedo qual era il suo habitat a Firenze nel contesto del palazzo Pitti del giardino di Boboli e è davvero molto bello la dottoressa Ruggerici ha fatto tutto il percorso che mostra come in realtà questo luogo poi diventa stimolante anche nell'epoca lorenese e il fatto di riportare a vita e a conoscenza compiuta questo spazio è davvero un arricchimento per il giardino di Boboli e per in generale la riscoperta di quanto la dinastia medicia prima e Lorena poi rendono a questa città un patrimonio straordinario che tutti così oggi da oggi possono godevere grazie grazie Eugenio e ora qualche parola ancora sull'aspetto eponimo di questo giardino sull'aspetto botanico sulle camellie senza entrare nelle caratteristiche di tutte le 50 varietà di camellie che qui sono presenti ma magari in grandi linee la nostra curatrice del patrimonio botanico Bianca Maria Landi Buongiorno a tutti grazie direttore io credo che sia doveroso da parte nostra rendere un piccolo omaggio poi alle protagoniste dell'identità di questo spazio parto col dire come già accennato dalla collega che sono presenze che si sono inserite lungo il corso della storia dell'identità di questo di questo spazio la camellia che in Toscana ha poi trovato uno dei luoghi di elezione è una specie è un genere che arriva dall'oriente dal lontano oriente dal Giappone dal nord della Cina al nord della Corea e la diffusione in Europa si deve a un missionario gesuita un botanico un esperto di botanica Georg Joseph Kamel al quale poi lo stesso Linneo ha proprio dedicato il genere Camelia la presenza in Europa ma anche in Italia di Camelia si può datare intorno alla fine del 1700 ci sono le prime documentazioni storiche che ce lo raccontano e come vi dicevo in Toscana ha trovato uno dei luoghi di elezione per la sua diffusione e così anche all'interno di questo spazio e del Giardino di Boboli lavorare a questo progetto ha rappresentato uno straordinario una straordinaria sfida per noi di quello che vuol dire lavorare in sinergia dobbiamo necessariamente farlo e ci fa piacere farlo io permettetemi di ringraziare nello specifico la mia collega l'architetto Ruggeri per questo continuo supporto e lavoro di squadra ma così come tutto il personale sia del Dipartimento Botanica che del Dipartimento Architettura e del Museo tutto perché c'è un lavoro quotidiano costante e silenzioso di cura questo spazio è rimasto chiuso ai visitatori per tanti anni ma non è mai mancata in questi anni la cura specialmente delle piante e dello straordinario patrimonio botanico che ospita e voglio approfittare appunto per ringraziare principalmente il curatore nello specifico di quest'area che è Massimo Pettini ma così come tutto il personale tecnico e i curatori delle singole collezioni del Giardino di Boboli a tutti i livelli e il personale di vigilanza che collabora quotidianamente alla corretta fruizione e la giusta fruizione del giardino in questo spazio e durante questo cantere ci siamo dovuti confrontare con la sfida di dover gestire un lavoro così imponente con una indispensabile doverosa e quotidiana cura del patrimonio botanico che ospitava alcuni degli esemplari sono veramente esemplari annosi datati pregevolissimi dal punto di vista botanico se vi girate io la menziono sempre perché è un atto dovuto abbiamo uno splendido esemplare quello più alto di Camellia Iapponica Candidissima che è datata 1830 quindi potete immaginare che cosa ha significato lavorare ad un restauro così imponente cercando di tutelare passo per passo in ogni fase del progetto la cura di questi esemplari che è stata veramente una cura costante noi siamo intervenuti parallelamente ai lavori strutturali con delle azioni di monitoraggio costante degli interventi che potessero supportare una corretta crescita e conservazione di questi straordinari testimoni botanici durante tutta la durata del cantiere con interventi che fanno riferimento sia a una progettazione degli stessi ponteggi che è stata mirata a cercare di essere quanto meno impattante possibile con la loro presenza ma anche a delle azioni vere e proprie di supporto e cura delle specie durante tutta la durata del cantiere sia dal punto di vista degli apparati radicali e delle condizioni del sito di crescita che del costante veramente costante quotidiano monitoraggio di eventuali segnali che ci potessero far pensare che potessero insorgere delle problematiche durante l'avanzamento dei lavori questo non è successo a testimonianza che la natura è sempre più forte poi degli uomini che i tempi degli alberi non sono quelli degli uomini e quindi ci ricordano che sono stati testimoni prima di noi dell'identità di questo posto ci auguriamo di aver potuto in minima parte poter contribuito a che questa storia possa essere raccontata dalla loro grazia dal loro valore dalla loro presenza per molto tempo ancora grazie mille grazie bianca e ti chiedo subito di tornare insieme a paola per il foto di gruppo e eugenio così facciamo prima qui un foto di gruppo e poi un altro foto di gruppo davanti lì tra le camellie proprio e chiedo a ecco benissimo vorrei anche ringraziare a proposito il nostro funzionario fotografo Roberto Palermo che ha documentato tutto tutto il lavoro fotograficamente e anche vorrei ringraziare il nostro dipartimento di comunicazione digitale di strategie digitali e Andrea Biotti per il nostro ufficio stampa per il loro contributo alla documentazione e comunicazione di tutto quanto ecco mettiamo magari le dame le dame che dobbiamo fare oltre togliamo la camellia sarà un peccato di di l'unico e l'unico per e l'unico di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.